I nostri esordienti di mister Simone Giordano e Giuseppe Gian Cristoforo hanno augurato buone feste a tutti. I panettoni? Bravi ragazzi, ci rivediamo all'anno nuovo allora, è vero? All'anno nuovo ci rivediamo. Vogliamo fare l'urlo per il Cavaliere? Ecco, il finito di battaglia degli esordienti, auguri! Bravi ragazzi! Tutti contro tutti! Ma io vissi! Ammazziamoci tutti qua! A tutti contro tutti vincendo il Cavaliere! Guardi ragazzi! Ecco il nostro mister Gerardo, mister Giuseppe, Adore Andrea ti ha esordito con i giovanissimi l'altro giorno, no? La seconda gara giusto? E mo faceva anche gol! Non ti sei mangiata? Un 2004 No lui 2005 Allora preparati che giochi anche te Chi è pronto per esorgire? Ai giovanissimi? Chi è pronto? Tutti quanti siete pronti per esordire? Lui lo ha morto Ai giovanissimi? Sì No non fugga Vedi che vi raffreddate Ecco mister Giuseppe Che nell'occasione fa fare pure Un po' di movimento ai ragazzi che si riscaldano Ecco qua c'è Un altro gruppo di piccolini Sono i primi calci C'è mister Francesco Mister Anna Vita Qua abbiamo Daniele Ucci Il nostro portiere dei giovanissimi Mister Gabriele Sempre in movimento All'altro lato All'altro lato dietro la porta ci sono i giovanissimi E gli allievi Lai in ponte c'è un altro gruppo di ragazzini Mi pare di Mister Bruno Dovrebbero essere i pulcini Nicolò Mac Mac Cristian Riccardo E faccio il cappello un'altra volta Grazie a tutti C'è uno C'è uno C'è uno B No, no, no!